Sarà la domenica del derby di Coppa Italia di Serie D tra Messina e Città di Messina, ma sarà anche quella che segnerà l'inizio delle danze nei campionati di eccellenza e promozione. Il derby di Coppa del capoluogo peloritano sembra molto sentito, non ne fa un mistero nemmeno l'allenatore della CR Messina infantino, che parla dell'entusiasmo che una vittoria regalerebbe a tutto l'ambiente. Sul fronte opposto il Città di Messina del tecnico Furna rispera di far bene a regalarsi una bella soddisfazione con lo sgambetto ai cugini. Tutto questo con l'Igia Virtus alla finestra, che oggi terrà un amichevole con la Sicula Leonzio in quel di Lentini e che ieri ha ufficializzato l'acquisto del difensore Armando Citrigno, classe 1997, e l'arrivo a Barcellona Pozzo di Cotto del direttore generale Martino Sibilia, agente FIFA, con un passato ad Avellino Foggia e Casteldisangro. Ufficializzato anche un accordo di satellizzazione con la Vivi Don Bosco per il settore giovanile. Prima giornata nel campionato di eccellenza e il big match appare quello tra Biancavilla e Camaro, lo scorso anno grandi di protagonista del torneo. Occhio anche al derby Ionio-Tirreno tra Ionica e Milazzo. Il termevigliatore fa il suo esordio nel massimo torneo regionale andando a rendere visita alla Marina di Ragusa. Questo per quanto riguarda il girone B. Nel girone A invece il Cetta di Sant'Agata è costretto a giocare a Lenzo Vasi di Gliaca di Piraino per il suo esordio contro il Castelbuono.